la nostra ben trovati buonasera buon pomeriggio la nostra e vostra ora solare anche oggi come sempre puntuali anche oggi insieme a voi per per storie che per storie che ci fanno pensare ci fanno ragionare ci permettono attraverso l'attenzione la cura che i diretti protagonisti avranno e lo vedrete nel raccontarcelo e anche di capire qualcosa di più la la nostra prima storia si apre con e vogliamo che non sia assolutamente un senso di colpa ma una capacità da parte di questa grande protagonista di vivere per se stessa e per quella donna che lei sostiene non essere riuscita ad aiutare che invece sta portando in giro ovunque con lei vado con ordine giorgia butera ben arrivata giorgia butera il sociologa intanto una grandonna prima di tutto grazie è in prima linea per la lotta ai diritti femminili come presidente della comunità internazionale sono bambina non una sposa perché molto spesso le bambine vengono date in sposa come carne da macello perché questo è il senso è direttrice di mete onlus un'associazione che si occupa di promozione difesa dei diritti umani poi se avremo tempo ci faremo raccontare l'episodio della della merenda a scuola ma è lei ride ma una vecchia è una vecchia storia allora io ho premesso nessun senso di colpa però una vita che fatalmente è diventata la sua insieme a quella di angela ferrara come come angela ferrara è una donna che non c'è più purtroppo come tante altre donne perché viene uccisa dal marito viene uccisa dal marito davanti la scuola dopo aver lasciato il figlio a scuola il 15 settembre del 2018 per me una giornata molto importante come per tutta la città di palermo perché quel giorno noi avevamo la visita del santo padre e io ho lavorato per la cura arcivescovi di palermo per quel grande grande evento importante angela viene uccisa quella stessa mattina dal dal marito che si uccide poi lascia il figlio a scuola e poi si suicida e poi sì il marito si suicida io arrivo e poi torniamo indietro io ascolto la notizia al telegiornale della sera perché chi si può ben comprendere la mia fatica giornata piena sì certo iniziata alle 3 del mattino dove avevo interrotto ogni contatto con chiunque io quotidianamente ricevo tantissimi messaggi tantissime telefonate è una parte della mia vita dedicarmi agli altri quotidianamente ma quella giornata non poteva prevedere altro assolutamente iniziata molto presto alle 3 del mattino io poi il telegiornale della notte ascolto questa notizia dico una brutta frase la dico e la ridirei probabilmente perché non si uccideva lui senza capire di chi stessimo parlando l'indomani è stata faticosa altrettanto perché bisogna fare il report e bisognava ricordare tutta la giornata come se questa notizia non riuscisse ad arrivarle no no per notizia intendo dire che quella notizia fosse legata a questo mi apparteneva abbastanza certo e poi io realizzo il pomeriggio quando comincio ad aprire li avevo già aperti ma con un'altra funzione di social sono molto presente ma la mia presenza è funzionale la mia presenza aiuta non è non lo fa non lo fa per per vanteria diciamo per vedere quanti followers no no per niente io come ieri passo dall'equador all'africa al pakistan ma anche a 20 chilometri da casa o anche due chilometri da casa quindi è un'altra la mia vita certo e io poi vedo taggato su facebook la pagina di angela con una frase che che non avevo ben compreso ne rivedo un'altra dopo un po vedo dei fiori e si capiva il che era un messaggio di morte entro dentro la pagina incredula in quel momento realizzo che la donna uccisa il giorno precedente era proprio angela ferrara quel momento cominciato ad avere reazioni non normali nel senso ho cominciato certamente a piangere per la disperazione ma quello che si diceva prima questo senso di smarrimento perché perché erano quattro mesi che noi ci sentivamo quotidianamente io mi svegliavo anche perché sono tanti messaggi anche con il suo messaggio con quei suoi occhi smeraldo lucenti che mi raccontavano sempre qualcosa ma sempre qualcosa di positivo lei non ha mai detto lui ecco questo è un punto molto importante cioè questa questa donna non le ha mai fatto capire assolutamente che ci fosse quel problema e la contattava e la cercava perché perché per un certo punto le dissi anche di smetterla perché rinnovava la stima mi diceva tu da probabilmente io sono stata molto leggendo non lo so però sono state leggere nel senso che mi dice continua a dire tu se sei forte ma perché mi stai a parlare con tutto quello che fai come trova il tempo io il tempo lo trovo con difficoltà a volte ma lo trovo ed era un continuo angela ci parliamo perché ci sentiamo anche telefonicamente io quando tempo arrivo durante la giornata arrivo ma lei non aveva mai accennato a nulla il suo lei aveva una gran voglia di vita di libertà e di far conoscere le sue idee è stata una poetessa gentile una poetessa dei bambini ricordiamo questo atto di giurità ha regalato 100 libri quando è successo il terremoto esatto il libro era l'alfabeto degli animali era un libro che lei aveva già pubblicato eccolo qua e lei e angela fa dono di questo libro sento copie al sindaco di amatrice quindi il colloquio con lei il vostro incontro tra donne di di cultura e di mediazione verso gli altri attraverso il proprio pensiero era dettato da questo insomma assolutamente da questo e poi lei mi chiedeva io ho la mia pagina personale ma anche la pagina dell'associazione su facebook molto seguita e lei mi dice dove io questa cosa faccio entrare poche persone a scrivere in quella pagina perché una comunicazione mirata chiaro e lei mi chiedeva di e così ho fatto di pubblicare i suoi racconti le sue storie ma anche i suoi video su youtube ma erano tutti era uno dei titoli io ieri ho sentito la mamma di angela e vi ringrazia per per la storia per il ricordo che state rendendo ad angela grazie grazie a lei e alla mamma alla mamma noi mandiamo un abbraccio pieno di di un amore che se non è nato da una conoscenza nasce dalla dal patire insieme quello per tutto quello che è successo quindi grazie a lei doppiamente dottoressa di farci da tramite da ponte e quindi mi chiedeva di pubblicare in pagina perché voleva lei mi diceva la tua pagina molto seguita e quindi grazie a te molti riescono a conoscermi arriva il mio messaggio io questo facevo e poi lei mi diceva dai dove pubblicato così lo faccio vedere alla mia mamma perché la sua mamma era molto legata anche a questi suoi aspetti il mio fallimento è perché che reale adesso io l'ho immediatamente dichiarato chiedendo perdono ma perché non capire che una donna ha bisogno di aiuto se fai questo mestiere probabilmente però ascolti io non sono io certamente a doverle non ho vorrei avere le parole giuste per poterle dire non è così però si fidi talvolta si finge molto bene non per fingere ma per non non caricare il mondo esterno non caricare le persone che amiamo le persone a cui vogliamo bene le persone con le quali entriamo in contatto di una preoccupazione in più perché siamo in fondo quasi sicuri che quella guerra potrà finire noi ci fermiamo soltanto per un attimo su questa poesia di angela che parte con la più normale delle cose quando sei davanti ad una margherita mamma o non mamma e prosegue dicendo i dubbi dell'amore nuda margherita nell'assolato prato preda sei dell'ossessione ma se davvero mami non raccogliermi per favore tanta attenzione su questa storia come voi sapete fare l'ora solare vi aspetta qui tra un attimo finestra aperta grazie Giorgia Butera una sociologa in prima linea per la difesa dei diritti umani dei diritti di tutti delle spose bambine che tali non devono essere delle persone che incrocia la vita di questa meraviglia che era angela ferrara che viene uccisa dal proprio marito il quale poi si suicida il tutto ha come teatro la scuola dove è stato appena lasciato il loro bambino e c'è un libro che angela le invia ecco era nata questa vostra amicizia si può chiamare così amicizia di intelletto no perché una era collegata all'altra angela le invia prima di morire le sette fantastiche meraviglie del mondo antico angela teneva tantissima a questo testo perché era una ribalta più forte rispetto alle precedenti e non era riuscita a presentarlo questo testo lei mi invita la presentazione a matera grazie anche a delle donne di matera ed era prevista calendarizzata per il 18 di ottobre la richiesta è stata firmata da angela per farla in biblioteca e noi non noi la presentazione l'abbiamo fatta lo stesso è stata stranissima perché presenti un libro di una donna che è stata uccisa in un territorio non mio anche se poi a me partendo dove ecco ricollo tocchiamoci bene siamo in basilicata siamo in basilicata il paese di angela ferrare cersosimo io ho anche contattato il sindaco informato della mia presenza e anche inviato un messaggio e poi magari leggeremo e la presentazione del libro di angela la prima presentazione lei teneva tanto a fare questa presentazione è programmata per il 18 ottobre la richiesta fatta da lei con la sua firma io vengo invitata eravamo tutte presenti ma tranne che lei a me non era mai capitato e mi auguro che non capiti più a nessuno in realtà presentiamo un libro la cosa ancora più strana è che ero io l'unica a conoscerla in quel contesto perché io le parlavo quotidianamente gli ultimi quattro mesi di questi questi dialoghi questi confronti un errore che non mi perdono indubbiamente che lei mi diceva tu hai tanta forza tu trasmetti tanta forza forse stata stupidotta nel non capire che anche lei traeva forza da questa forza certo che sì però se oggi angela fosse la ragazza e quanto lo vorremmo quanto lo vorremmo dottoressa fosse la ragazza che continua a scriverle che magari non so vorrebbe essere qui per presentare il suo libro tutti questi ragionamenti noi non li faremmo ecco sicuramente quando quando ci si trova di fronte ad una morte che è atroce perché il femminicidio perché il levarti la vita uccidere la madre di tuo figlio del vostro figlio per poi levarti la vita ecco si entra e non è questo il nostro incontro di oggi non è di questo lo vogliamo parlare però una lezione lei la sta dando a tutti noi bisogna cogliere i particolari sì bisogna bisogna essere forse anche quasi insolenti nel chiedere ma tu sei felice ma tu ma tu come vivi in realtà angela tutto questo lo dichiarava quindi io sono molto attenta anche ai messaggi non detti lo sono realmente non so perché questa volta non sia stato così questo non lo so lei dava aveva questa voglia di di raccontarsi di parlare della vita del dell'amore del mondo quello che probabilmente perché poi è chiaro io ho riletto non tanto i messaggi perché i messaggi quelli erano tra di noi le telefonate i messaggi non scritti e riletto esatto e probabilmente c'era c'era la sua voglia di di affermarsi io vado molto in giro raggiunto anche dei traguardi importanti intervengo alle nazioni unite tutto un mondo nella mia vita importante mi occupo di cose anche brutte ma proprio perché brutte io le amo perché le cambio cerco di renderle amore però dottoressa ascolti un attimo lei è nello studio dell'ora solare si con una storia che porta in sé tutte le caratteristiche della tragedia e voi sapete che noi raccontiamo sempre storie che sfocino e che possono partire anche dalla più brutale delle difficoltà e delle ingiustizie perché questa è un'ingiustizia per tutti perché ha ucciso per poi chi poi si è tolto la vita perché ha privato il proprio figlio di un futuro con i propri genitori però lei sta facendo una cosa molto bella lei sta eternando la vita di questa ragazza lei la sta portando qui siete in due sedute su quel divano grazie lei non lo fa soltanto dentro questo studio io di questo le sono profondamente grata ma guardi a nome mio a nome di tutta la redazione perché perché gli occhi verdi e luminosi di angela non non si sono chiusi se finché lei continua a portarla avanti così e questo è questa la sua intenzione questo che lei fa oltre a tutte le cose assolutamente sì il mio obiettivo io ho poi organizzato altre presentazioni il mio obiettivo è di portarlo anche all'interno delle carceri questo testo e è un pretesto io ho già fatto degli incontri nelle carceri incontrando dei soggetti non proprio belli è chiaro che chi sta in carcere probabilmente bello non è ma i protetti lo sono ancora di più perché sono gli assassini violentatori pedofili ho già fatto degli incontri quando inizialmente sono bambina o sposa detto beh rendiamola anche occidentale perché c'è questa condanna che pare sia soltanto in Italia allora parliamo di pedofilia parliamo di abusi e allora sono incontri che ho già fatto qualche anno fa parlando loro di abusi ma anche di amore di educazione sentimentale possiamo redirmerne uno è un successo avremmo cambiato il mondo assolutamente salvato assolutamente sì e questo testo mi auguro di angela è il è il pretesto per rientrare nuovamente nelle carceri a parlare a queste persone condanniamole sì ma educhiamole anche educare perché se no la sola condanna è una morte che arriva due volte due volte tanto la dottoressa che vedete seduta davanti a me in tutto il suo entusiasmo in tutte le sue e nazioni unite ma solo solo pensate solo per dirne una delle tante cose che fa quando era ragazzina e andava a scuola c'è riuscita un grande profitto si accorge che il suo compagno di banco comunque un amichetto non tira fuori allora della merenda una merenda buona me la racconta lei per chiudere così le facciamo il quadretto e capiamo chi lei sia ma sì che sarà prima me la mia vita è sempre stata segnata da da questo da questa mia natura se la tenga stretta avevo visto una colazione appunto non buona era del pane duro la mollica era molto dura e quindi io dall'indomani mattina quasi per tre anni perché è stato in prima media ogni mattina compravo la colazione magari non facevo per me però la compravo per il mio compagno la mettevo sotto al banco lui il primo la prima volta ha provato a ringraziarmi e io ho fatto così anche il secondo giorno ha provato al terzo detto verso basta e non mi hanno dovuto dire più nulla lui per tre anni ha avuto la sua colazione non ci siamo mai detti nulla ci siamo poi rincontrati dopo qualche anno lui andava a militare e io invece stavo già abbastanza requieta era il mio primo accredito alla borsa internazionale il turismo per la mia vita siamo incontrati sul treno direzione taormina ci siamo abbracciati piangendo entrambi e dissi in quel momento beh se milioni di grazie adesso lo puoi dire questa è giorgia butera signori giorgia butera che oggi e non solo oggi da oggi però nella vostra testa nella nostra ora solare giorgia butera viaggia con accanto il cuore e i sogni di angela ferrara grazie infinite infinitamente grazie per essere stata con noi grazie dottoressa a presto dunque ve lo premetto subito quando questa storia nel senso di questo nome di questa persona è arrivata in redazione è stata un'unica alzata di mano subito subito solo deve venire qui deve venire qui e siccome ci riusciamo quando ci mettiamo una cosa in testa mario tagliani buongiorno maestro il maestro dentro trent'anni tra i banchi di un carcere minorile perché questo grandissimo signore che ho seduto davanti a me voi seduto nella vostra casa luogo di lavoro dovunque ci stiate seguendo è di add editore questo libro è stato maestro dei ragazzi dell'istituto penale per minori ferrante a porti di torino fino a giugno scorso per 35 anni della sua vita in quel luogo di detenzione ha portato l'ora solare ha portato il sole ha portato il valore maestro buongiorno un altro applauso ci sta io sono così felice così felice ma lei come ha fatto a diventare maestro in carcere come si è carcerato maestro ci racconti diciamo che il caso non fa nulla per caso io avevo vinto cioè mi ero trovato a trent'anni un po sballottato e visto che avevo un diploma magistrale allora bastava il diploma magistrale ho fatto un concorso e ho vinto quel concorso dell'82 e poi ho scelto la scuola il caso è voluto che la scuola che io avessi scelto fosse proprio vicina al carcere minorile aspetta ti racconti tutto lei viene mandato alla scuola io mi presento a scuola anche perché voi sapete che nella scuola alimentare sono tutte maestre sono sono rari maschi infatti la direttrice mi fa a ma lei è un maschio e io ho detto sì va bene ma non è una colpa no ma sale e sarebbe perfetto per l'altra scuola e ha detto va beh sarà una succursale voglio dire sia il ferrante a porti e la succursale io non sapevo io vengo da una provincia bresciana dove delinquenza minorile non c'era forse adesso ci sarà ma ai tempi non c'era io non sapevo cosa fosse ferrante sì sapevo chi era ferrante a porti come educatore come come quello che ha fondato come storia certo ma a torino dire sei uno da ferrante vuol dire sei uno da strada e quando appunto mi hanno detto guardi che il carcere minorile al di là della strada ha detto vabbè io non ho scelto il carcere però lì c'era il vecchio maestro che si aspettava questa questa ritrosia mia e mi ha detto guarda non avere per giudizi come tutti gli altri tu domani vieni con me visiti il carcere e poi decidi vedremo e prima ancora che io potessi dire ma avere qualche notizia in più il maestro preso se n'è andato e il giorno dopo io mi sono dovuto presentare ormai avevo appuntamento e inizia questa visita al ferrante ecco entravo in questa quella da quel viale e cominciavano i lunghi corridoi e si entrava più sia un boccavano corridoi più la luce calava era buia eccolo e a un certo punto dicevo ma qui è tutto silenzio tutto vuoto ma dove sono i ragazzi infatti dice una guarda che i ragazzi in questo momento non ci sono sono al campo perché gli operatori sono un corso di formazione dico come c'è pure un campo e andiamo al campo e quando siamo arrivati al campo io deciso che sarei a chi avrei fatto il maestro in quel calcio perché in quel campo c'era il campo era verde naturalmente con l'erba non l'erba sintetica l'erba vera sì c'erano dei ragazzi che ricorrevano un pallone i ragazzi che parlavano tranquillamente sotto gli alberi sembrava una vita normale ho detto guarda mal che vada starò un anno ma poi vedremo insomma vedremo un anno più 34 alcuni di questi ragazzi quando poi vi siete ritrovati in aula hanno riso eh sì perché poi il giorno dopo no lì c'è da dire anche un'altra cosa pesante perché il maestro in quel momento si è fermato con i ragazzi e ha preso in mano il fischietto in quel giorno e io gli ho detto subito ma scusa e non li porti in aula ma guarda che al ferrante sarà il maestro anche sul campo da calcio tu pensa tu pensi che sia facile arbitrare una partita al ferrante a porti e lì ho capito la mia prima lezione la famosa ora di lezione di cui parlare calcati che ti cambia la vita forse è stata proprio lì il primo momento quando il giorno dopo siamo entrati in aula lui naturalmente il vecchio maestro mi ha dato dei ragazzi un po più tranquilli un po meno da ferrante infatti la prima domanda che a me è venuta spontanea era stato chiedere ma scusate voi non mi sembrate così brutti come gli altri con pelli lunghi se lei si ricorda negli anni 80 si usavano anche le permanenti i baffoni a corno di bure invece questi erano due ragazzi puliti ma voi non siete e questi ridevano ridevano anche gli altri ridevano pensato dite che cosa insomma per farla breve abbiamo ucciso il maestro a martellate e io lì al momento sono rimasto che esordio è che è un modo di dirti una frase che non è vera chiaramente perché non era vero il maestro era il tecnico di laboratorio che allora si chiamava maestro d'arte loro erano ragazzi di un laboratorio professionale però lì ho capito assi loro mi sfidano e io accetto la sfida e vediamo come andrà a finire mario tagliani è un maestro mario tagliani è il libro cuore 2.0 questa è l'idea che io mi sono fatta cioè il maestro che prende una varia umanità attenzione adesso parliamo di di cose meravigliose che questo uomo ha fatto e non decide di cambiarla ma con tenacia sapendo di essere il comandante del gruppo perché lei è capitano mio capitano lei è il capitano però che cosa ha fatto ha istituito l'arte dell'ascolto con l'arte dell'ascolto lei è arrivato a capire che non non fosse possibile mettere sui libri davanti questi ragazzi davanti ai libri e davanti alla regolare scuola come la immaginiamo ma per esempio gli ha portati davanti ai computer parliamo di anni fa parliamo dell'ottantaquattro 85 cosa voleva dire quello non era solo la curiosità era dare una manualità a dare un ma guardi io mi sono fatto questo semplice ragionamento voglio dire se è la scuola fuori ha creato dei disadattati per cui questi ragazzi non si sono trovati bene a scuola è vero grazie a dio che non tutti i ragazzi che sono in carcere ma è vero che tutti i ragazzi che sono in carcere andavano male a scuola quindi anche la scuola doveva fare qualcosa per loro e se io facevo le stesse cose che faceva la scuola fuori la programmazione l'interrogazione non avrei ottenuto nulla quindi che cosa faccio non lo so tanto cominciò ad ascoltarli in base a quello che mi dicono io capirò infatti ho capito che loro mai avrebbero preso si vergognavano a prendere in mano una penna e pensi un ragazzo grande e grosso 17 18 anni con la penna in mano che non sa cosa scrivere e lì mi è venuta l'idea allora c'erano i primi perché hanno la mia età se li ricordi il commodore 64 64 kilowatt e kilowatt assolutamente però davanti a un computer il ragazzo si sentiva al passo coi tempi scriveva e senza un lettere alle madri è vero e all'inizio scrivevano così tanto per scrivere poi un'altra cosa che ho imparato mai correggere sa penna rossa penna blu perché correggere una cosa davanti a un ragazzo che non sa scrivere come graffiargli il cuore mentre invece quando loro scrivevano con le dita sa che il computer è una video scrittura si può correggere e non rimane traccia dell'errore e quando la stampavano era bella come quelli che sapevano scrivere bene ed allora se uscivano varie madri varie fidanzate varie sorelle perché volevano sempre scrivere non sempre scrive allora il le giornate lei racconta ovviamente in questo in questo libro che a me stupisce perché dovrebbe essere una specie di tomo 1 tomo 24 e se c'è tutta tutta tutto anzi tomo 35 perché sono 35 anni e quello che da qui esce ecco perché l'ho detto il libro cuore 2.0 me lo passi questo questo termine perché queste storie sono tutte vere quello quello non c'è dagli appennini alle ande forse non c'è il piccolo scrivano fiorentino però lei ha saputo dare innanzitutto dignità a questi ragazzi cioè il percorso fatto insieme che cosa vi ha portato l'uno all'altro e loro mi hanno insegnato tanto è comunque perché voglio dire un'ora di lezione è valida quando tutti e due imparano sia l'insegnante che gli allievi e mi hanno insegnato che esiste un altro mondo che è vero che il carcere è una zona di confine ma il confine fa sempre parte del nostro mondo e al confine i valori si ribaltano no in un luogo appunto di massima eccezione come il punto il carcere anche la scuola dovrà essere un po eccezionale assolutamente al di fuori della regola e me lo imparato anche sulla pelle loro ho imparato ascoltando loro vedendo le loro esigenze e quindi anche il mio modo di intervenire è cambiato nel tempo mi ricordo negli anni 80 erano i figli degli immigrati a torino degli anni 60 mentre dopo arrivavano gli immigrati ecco facendo le stesse cose gli uni pigliati non andava bene non si creava con interrelazione che poi porta ci voleva ci voleva lei lei è riuscito ad aprire un linguaggio a scrivere un vocabolario diverso per ogni fase per ogni situazione per ogni persona mi sono adattato ai tempi mi sono adattato come la fa facile pensi che per esempio no quando sono arrivati i primi stranieri di lingua araba e coi mediatori culturali si erano fatti dare delle favole da leggere delle storie e a un certo punto uno prende in mano questo libretto e comincia a leggere e gli altri ridevano dico ma scusate ma perché ridete lasciatelo dire no ma quello non sta leggendo non sa leggere sta inventando come sta inventando sì perché l'arabo classico i ragazzi miei non lo conoscono perché conoscono solo i dialetti allora lì altra idea prendiamo tutto scannerizziamo tutto cancelliamo l'arabo e ci reinventiamo la storia in italiano con i ragazzi quindi rumeni arabi albanesi tutti insieme a inventarsi la storia in base ai disegni questo è un altro modo per fare scuola tra i ragazzi che ancora oggi il maestro frequente poi tra poco andiamo al carcere di opera c'è so el che oggi è papà di sei figli guardatelo ecco qua questo è uno questo è uno dei allora quello che lei sicuramente poi parleremo se abbiamo tempo anche della maestra chiara ma quello che lei sicuramente ha fatto è stato investire in un presente che ha costruito il futuro maestro quindi lei lei è un grande capocantiere lei è un lei è un grande uomo è grosso se no adesso ma allora no questo questo dimostra una cosa e si dice che l'insegnante deve educare ex ducere tirare fuori ma non basta cioè se io un bambino insegno a camminare non posso lasciarlo andare per strada da solo al primo bivio lui non sa dove andare bisogna accompagnare la crescita ecco questo ragazzo aveva solo bisogno di essere accompagnato tanto è vero che si è messo regolare si è messo a posto adesso vabbè vive a londra con questi figli fa il tassista e guai se io ogni anno non lo vado a trovare si offende pure voglio dire i figli mi chiamano nonno ormai faccio parte della famiglia ma perché basterebbe come il problema è che girano 150 ragazzi dentro e poi ci sono loro sono minori dietro ogni minore c'è un'organizzazione di adulti che li manovra quindi non è facile seguirli io non la metto sul piedistallo però io la volevo conoscere volevo che lei entrasse all'ora solare per avere la certezza che lei fosse vero sa non un bravissimo attore che ha recitato una parte in un film meraviglioso può anche essere un uomo che è stato regista della vita propria e degli altri si fermi di giorgio brancia va al carcere di opera siamo a milano questa è la storia di un ex detenuto che è riuscito a diventare tutto questo questo laboratorio mi ha cambiato totalmente questione di vita perché prima avevo una testa completamente diversa io organizzavo le rapine andavo a fare rapine furti non c'è no è tutto un altro mondo capisci quasi costruiscono violini di alta qualità siamo in un carcere al carcere di opera di milano e tutto è nato da una sfida io sono arrivato nel 2008 in questo carcere per 13 anni di galera me li sono fatti tutti fino all'ultimi tre quattro mesi poi sono uscito con la fondazione e sono andato a cremona e da lì poi sono partito ho aperto un laboratorio a cremona perché ormai ero era il numero uno a cremona per cui io qua ho imparato io non sapevo nemmeno cosa voleva dire la parola agliuttaio quando ci hanno chiamato e poi lì è nata la passione e continuato è il primo violino che ho fatto quando l'ho sentito suonare mi sono scoppiato a piangere non immaginavo mai che uscisse una melodia del genere da un pezzo di legno il giorno della mia liberazione è stato un giorno di quelli disastrosi perché vado in questura per prendere la mia libertà alla sera alle sei e mezzo mi chiama un amico vado per incontrarlo e parcheggio la macchina attraverso la strada mentre attraverso la strada era rosso per cui io vado deciso è passata una macchina mi ha preso in pieno e ho fatto 20 metri di volo cioè proprio il giorno preciso in cui ho finito la condanna mi è successo questo incidente e sono paralizzato ero distrutto ero mi ha rovinato totalmente da vita quindi riprendere tutto da capo con le braccia paralizzate non potendo più lavorare ero in crisi diciamo poi con questa associazione casa dello spirito delle arti è andato è andato tutto ancora meglio perché adesso vengo qua insegno per cui continua la mia avventura per i prossimi anni io continuerò a stare qua fin quando non riesco a portare fuori almeno un allievo dei miei portarlo nella mia bottega a lavorare questo laboratorio oltre ad avere salvato me e altri ragazzi salverà anche moltissima altra gente Maestro Tagliani perché se il carcere viene approcciato in un modo diverso il carcere può produrre anche tutto questo Senz'altro come dicevo prima non basta educare accompagniamoli nella crescita accompagniamoli fuori Pietro Pollici a me diceva i suoi ragazzi sanno fare bene una cosa comportarsi male allora insegniamoli a comportarsi bene se noi siamo gli incontri che facciamo facciamogli fare dei buoni incontri non dei cattivi incontri e quindi vedete che anche i nostri ragazzi cominceranno a comportarsi bene e gli incontri dove si possono fare ma anche fuori questo vale a scuola scuola è il luogo massimo degli incontri e lì possiamo costruire il cittadino di domani bene se De Amicis l'avesse incontrata ne avrebbe scritto un altro di libro cuore Maestro Tagliani si fidi grazie a lei grazie a voi grazie con tutto il cuore davvero grazie a voi finestre spalancate ritorniamo tra un attimo con la nostra vostra ora solare a tra poco grazie 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 giovedì santo si conclude la quaresima iniziata con il mercoledì delle ceneri e la quaresima per noi è il racconto è tutta la spiegazione che Don Stefano cascia grazie grazie Don Stefano sta facendo qui all'ora solare Don Stefano è parroco di San Bonaventura da Bagnoreggio a Roma allora cosa si celebra oggi nel giovedì santo? che cosa succede? succede che festeggiamo e ricordiamo l'ultima cena di Gesù e quindi c'è una doppia celebrazione perché da una parte si celebra l'eucharistia e l'istituzione dell'eucharistia ma attraverso l'eucharistia c'è l'istituzione del sacerdozio certo in quel giorno certo e quindi ricordiamo questo e lo ricordiamo con due celebrazioni la mattina c'è la messa a Crismale con il vescovo che raduna tutti i suoi sacerdoti attorno a sé e lì si rinnova le promesse sacerdotali con il vescovo e poi c'è anche la consacrazione degli oli santi perché gli oli che noi usiamo il Crisma che usiamo al Battesimo che usiamo alla Cresima che usiamo quando consacriamo un altare che usiamo per il sacerdozio questo viene consacrato quel giorno nel giovedì l'unico giorno che poi viene mandato in tutte le parrocchie della diocesi per usarlo poi lì e poi si rifarà l'anno dopo esattamente e poi ci sono i due altri oli che sono quelli per l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni quindi sono i tre oli che vengono consacrati quel giorno che durano per un anno e che vengono poi dati a tutti Don Stefano, lei è stato ordinato sacerdote da Papa Benedetto XVI il 27 aprile del 2008 e noi abbiamo questa fotografia che chiaramente corrisponde al momento in cui questo è l'abbraccio che si fa alla fine del rito dell'ordinazione vieni abbracciato dal Vescovo per Roma e il Papa ovviamente il Vescovo di Roma e poi si è abbracciati da tutti i sacerdoti presenti che concelebrano e quindi è un momento in cui entri nella fraternità sacerdotale quindi vieni di quel momento lei che cosa porterai tu che cosa porterai con te per tutta la vita? ebbene a un certo momento noi ci mettiamo a terra completamente ed è secondo me il momento più bello perché è un momento di dono totale è il momento in cui dici ecco io esisto per te cioè divento il tuo servo il tuo ministro e questo è il momento secondo me il più bello caro Don Stefano allora la messa in cena domini che è l'inizio del titolo pasquale poco fa la nostra regia aveva messo l'ultima cena che diciamo è quella università l'arte ne ha l'ha raccontata in mille in mille modi diversi però sicuramente è quella di Leonardo da Vinci che rimane effettivamente è l'istituzione dell'eucaristia cioè quello spezzare il pane è lì che Gesù dice fate questo in memoria di me e quindi prende il pane dice questo è il mio corpo prende il vino e dice questo è il mio sangue e noi questo lo ripetiamo ogni volta a messa è certo solo che questo memoriale che noi facciamo rischia certe volte di passare così io vedevo l'ho detto domenica scorsa a messa c'era le palme no? certo e ogni volta è così la chiesa è sempre piena allora alla fine della messa ho detto carissimi oggi ci sono anche tante facce nuove vi accogliamo siamo felici di vedermi ma vi vorrei ricordare che noi diamo ogni domenica qualcosa di ancora più grande che è l'eucaristia al di là del ramo d'ulivo la cosa più bella è l'eucaristia e tante volte ce lo dimentichiamo cioè Gesù espressamente ci ha detto di farlo in memoria di lui e allora dal Vangelo di Giovanni Don Stefano prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda figlio di Simone Iscariota di tradirlo Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava si alzò da tavola depose le vesti prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse Signore tu lavi i piedi a me rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirai dopo gli disse Pietro tu non mi laverai i piedi in ciò i piedi in eterno gli rispose Gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse Simon Pietro Signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo su un giunse Gesù chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti che lo tradiva per questo disse non tutti siete puri quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché io lo sono se dunque io il Signore e il Maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi tra poco Papa Francesco celebrerà la messa in cena domini con la lavanda dei piedi nel carcere di Velletri ed è la quinta volta che accade proprio con i detenuti ecco questo gesto questo gesto Don Stefano che è così è così totale è così rotondo è un gesto di mettersi ai piedi con tanta umiltà che porta con sé l'infinita grandezza che cosa vuol dire? E allora questo gesto che noi poi ripetiamo in questa messa in cena domini in tutte le chiese che Papa Francesco fa nei carceri intanto era un gesto che facevano i servi uno arrivava si camminava con i sandali quindi era pieno di polvere e l'ospite gli pulivano i piedi eccetera ma era il servo che lo faceva invece qua Gesù lo fa ai suoi discepoli e lo dice proprio è molto chiaro voi mi chiamate maestro e signore lo sono ma vi ho fatto questo proprio per farvi capire che voi siete al servizio e lo dovete fare agli uni e agli altri quindi lui rovescia un po' il maestro e al servizio non è più uno che comanda ma uno che si mette al servizio degli altri e chiama gli altri a seguirlo e mettendosi al servizio degli altri dà l'esempio esattamente questa è la cosa più importante con queste immagini per le quali abbiamo chiesto aiuto al nostro Matteo Forino in redazione ripercorriamo le lavande dei piedi compiute da Papa Francesco dal 2013 anno della sua elezione fino al 2018 guardiamo insieme ci ha dato la vita per sempre i suoi figli e carità e amore qui c'è Dio mi spero nella cena nel corpo di Gesù accogli mio Signore altro non ti chiederò e per sempre la tua strada la mia strada resterà e la gioia e il dolore fino a quando tu morrai i nostri cuori non più liti non più dissidi e contese maligne del più grande chi più sa servire chi sa basta e chi si sa chi si sa perché grande è soltanto l'amore Don Stefano non c'è niente da fare di cui viene regala tanta emozione questo gesto ogni volta ogni volta si poi qua lo vediamo nei carceri cioè con persone che normalmente vengono messi di lato nella società come i grandi peccatori e quindi il Papa il numero uno in un certo senso in questo mondo si fa servo si mette ai piedi lava bascia il piede quindi è proprio un gesto molto forte che però non deve rimanere solo un simbolo cioè la nostra vita è al servizio degli altri anche quello non è come le palme in quella domenica ma deve essere esatto e poi lo vedremo anche domani cioè questo gesto viene accompagnato dopo dal dono della vita di Cristo e quindi di ciascuno di noi siamo chiamati a dare la vita don Stefano amare vuol dire dare la vita per l'altro non esiste dono più grande noi ci vediamo domani per il venerdì santo la reposizione dell'eucarestia che cosa vuol dire? ultima cosa che le chiedo spesso nelle chiese si dice si fanno il giro dei sepolcri la sera del giovedì santo e ne devi visitare sette insomma poi ciascuno ha le sue tradizioni però non è un sepolcro è sbagliato dire questo è l'altare della riposizione cioè quel giorno noi mettiamo in è una festa dell'eucarestia quindi l'eucarestia viene risposta in un altare dove è adornato di fiori eccetera e quindi si prega la notte lì davanti però non è il sepolcro tra l'altro Gesù non è ancora morto voglio dire è venerdì santo eccetera il sepolcro sarebbe il sabato santo se ci vogliamo pensare quindi non ha niente a che vedere però la gente l'ha chiamato così però lei è qui tu sei qui per spiegarci oh non sono riuscita in tutta la quaresima forse domani ci riuscirai forse domani ci riuscirò chi lo sa mi metterò di impegno Don Stefano Cascio grazie grazie di essere stato con noi la recita e la conoscina della Divina Misiricordia poi siamo noi e domani venerdì santo ora è 14 lasciate la finestra spalancata arriva l'ora solare grazie a tutti grazie davvero grazie signori grazie Don Stefano grazie grazie